Auto ma anche moto d'epoca per celebrare la mitica 500, l'auto sinonimo del made in Italy dell'automobile per tutti che ha segnato un'epoca. Le strade di Castel San Giorgio hanno fatto un tuffo nel passato con il sesto raduno del fan club la mitica 500 di Castel San Giorgio che ha richiamato centinaia di radunisti ed appassionati di auto d'epoca. Tante 500 ma anche altre vetture e due ruote come la Bianchini, la Sidecar, la Vespa, la Lambretta, la Ritmo e la Lancia provenienti da tutta la campania che hanno fatto scaldare i motori di auto custodite come veri e propri gioielli che vede crescere sempre più l'interesse ed un grande amore per una delle vetture italiane più famose rimasta ineguagliata. Auto decorate nei modi più diversi, quelle lasciate in forma originale con motori elaborati e potenziate, lucidate, curate, amate come solo i possessori della 500 sono capaci di fare. Il raduno, impreziosito dalla presenza di una madrina d'eccezione, la modella showgirl napoletana Tania Ragatta, si è mosso per le strade principali di Castel San Giorgio concludendosi poi con l'assegnazione di alcuni riconoscimenti ai partecipanti. Una passione è un'emozione che porta proprio dei brevidi, vedere prima cosa tanti amici che raggruppa questa 500, che è un'auto veramente che ha fatto la storia del mondo italiano, è una macchina dopo la pizza conosciuta in tutto il mondo chiaramente, quindi è una soddisfazione vedere come con tanta passione gli amici arrivano, se le curano, si può dire lasciano le mogli a casa per curarsi le macchine, quindi sì, è un'emozione grande e vedo che ci stanno non solo 500 quest'anno, ce ne stanno arrivando anche molti altri modelli che poi magari vedete voi. Beh, in effetti io faccio il carrozziere, quindi queste macchine le conosco molto bene, mi sono entrato nel sangue veramente, e per questo abbiamo deciso di creare questo club per tenerci tutti uniti e anche per lavorare, specialmente di questi tempi fa bene avere un po' di amici che hanno queste macchine. Come è nata lei l'idea di organizzare un raduno come questo? Stava mettendo a posto proprio una 500? No, la passione per il raduno è nata, ho cominciato a frequentare amici che già facevano queste cose e l'abbiamo deciso anche noi di creare un club nostro a Castel San Giorgio. Grazie a tutti.